Nella comunità Casa di Ruvo di Puglia si è aperto l'anno dedicato al venerabile Don Tonino Bello, indimenticato vescovo di Molfetta. Nello stesso giorno, 38 anni dopo la sua inaugurazione, Don Tonino Bello, indimenticato vescovo di Molfetta, volle si chiamasse casa, acronimo di comunità, accoglienza, solidarietà e amicizia. Da qui nelle campagne di Ruvo di Puglia si apre l'anno dedicato al venerabile nel trentesimo anniversario della morte del prete di Alessano, profondamente legato al culto dell'immacolata concezione. Alla riscoperta dei volti, il tema dei diversi appuntamenti che si concluderanno l'8 dicembre del 2023, solenità di Maria, da lui definita donna bellissima. Noi dobbiamo cogliere questo invito del venerabile Don Tonino a vedere non tanto cose nuove, volti nuovi, ma in modo nuovo. La Casa, gestita dalla cooperativa Oasi 2, è una comunità di recupero per le dipendenze da sostanze stupefacenti, adesso anche da quelle del gioco d'azzardo patologico. Don Tonino credeva molto nella riabilitazione dei giovani, si prosegue nel solco dei suoi insegnamenti. Nei prossimi mesi inaugureremo un modulo costruito ad hoc e finanziato anche dalla fondazione con il Sud, un progetto che si chiama Agape, che è specifico per i giocatori d'azzardo patologici. Inoltre inaugureremo un laboratorio di trasformazione dei prodotti che i ragazzi producono qui all'interno della comunità a casa nel nostro progetto di agricoltura sociale.